Sono felice di essere qua per stasera, devo solamente capire che musica fare mi hanno detto di fare un po' di musica anni 40, 50, 60 scherzato, scherzato allora non so se farà all'inizio un po' di musica anni 90 per accontentare i più grandi si? voi siete pronti a ballare, siete sicuri? voglio salutare tutte le persone che vorranno in fondo la mia destra è quella della mia sinistra nel fondo a voi qua davanti, a quelli del fondo indietro e incredibilmente ci sono anche dei ragazzi appesi ad un palazzo nel fondo voi avete pagato il biglietto? ok, a posto bene, si può spegnere tutto, grazie mani in alto il numero della piazza di Nostra Italia la mia destra è tutta non so se voli E le mani si alzano verso l'alto, tutti! Ma non so nella maverra con l'alto, tutti! Non so nella maverra con l'alto, tutti! Non, no, no! Si! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.